Finalmente abbiamo una casina tutta per noi Tutta per noi eh, tutta per noi e per la banca La televisione rinda a questa stanza la fai sempre solo tu Chi li purppettuno era morto la Maria De Filippo che a me non mi piacciono proprio La sera per la tv si fanno i turni, ovviamente in camera Mi piace Chi fa questo panino a mano? Di me la casa mi organizzava i bracciati, lì doglietto Rimanevi pure tutta l'acqua a terra quando ti facevi la doccia Non c'è niente perché io la pensavo che il pavimento fosse avuto asciugato Sotto al lavello della cucina ci stanno tre bidoncini Umido, plastica e indifferenziata Quale sta al centro? Ci sta all'umido Indifferenziato